Federica fa il suo ingresso nella casa del grande fratello, portando con sé esperienze e aspettative. Conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island, la sua bellezza e il suo carisma sembrano essere perfetti per ravvivare il reality show. È evidente che Federica abbia un piano in mente. Dopo aver concluso la sua avventura a Temptation Island, ha deciso di interrompere la sua relazione con il fidanzato, suscitando speculazioni sulle sue vere intenzioni. Durante il suo ingresso nella casa, Federica ha rivelato che il suo amore per Alfonso era già terminato prima dell'inizio del programma, definendo il loro rapporto attuale come quello tra fratelli. Il web ha reagito con entusiasmo e critiche alle dichiarazioni di Federica, mettendo in discussione la sua capacità di esprimersi. Tuttavia, la sua presenza continua a generare discussioni e dibattiti, dimostrando l'influenza del reality sul pubblico. Con l'uscita di scena del triangolo amoroso che ha coinvolto Shaila, Lorenzo e Javier, Federica sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. La sua storia con Javier potrebbe rappresentare una nuova opportunità, sia personalmente che professionalmente. Alfonso Signorini ha scelto di includere Federica nel cast per un motivo, e ora il pubblico è pronto a vedere come si evolverà la sua avventura nella casa del grande fratello. Le giovane consapevoli... Checom per putt-ba i bia i pia par avveni. Checom.